ciao ragazzi e benvenuti in un altro tutorial i presepi di chris sempre di king e queen tik tok oppure seguiteci anche sul nostro canale youtube presepi di chris allora ragazzi in questo tutorial oggi vi voglio insegnare a fare un piccolo ponte sempre con un po di materiale di riciclo e anche scarti di polistirene che noi dopo aver tagliato che abbiamo fatto qualcosa conserviamo sempre ragazzi perché sono sempre utili il materiale è ovviamente la pistola a caldo un pennellino e del colore acrilico marrone ci aggiungeremo anche del nero e del bianco dopo asciugato il marrone dello spago doppio un accendino antivento che servirà per levare tutti i pelucchi dello spago e una spazzola di ferro è il nostro taglierino andiamo con la prima fase e vi farò vedere come fare il ponte allora ragazzi prima di tutto in base ovviamente alla grandezza dove voi dovete fare il ponte sospeso fatto di travi e corde come si faceva in antichità vi potete scaricare qualche disegno potete controllare su google io vado di fantasia in base a quello che ho potuto vedere anche in qualche film eccetera eccetera cosa dobbiamo fare prendiamo il nostro polistirene da due centimetri e cominciamo a tagliare delle striscioline più o meno da più o meno da mezzo centimetro non dovete essere precisi ragazzi come viene viene pure se viene un po storto non ci interessa tanto le travi dovranno essere tutte quante tutte quante consumate per fare l'effetto legno da questa strisciolina tagliamo in due non bisogna essere precisi vedete una un po più lunga una un po più corta e ora passiamo alla spazzolatura dopo aver tagliato tante striscioline passiamo alla spazzolatura allora ragazzi con la nostra spazzola di fil di ferro io avevo quella più piccola però purtroppo si è rotta è il momento usiamo questa facciamo questo gioco qui questo movimento sulla parte finale cerchiamo di farne di più per dare la parte per fare la parte consumata del legno vedete come viene l'effetto come se fosse l'effetto del legno consumato ora ne faremo tante in modo da farvi vedere come metterle come mettere lo spago attorno ragazzi una volta fatti fatte tutte le travi di legno di finto legno ovviamente ricordate che è sempre polisirene visto che molte persone dicono ma tu non hai detto che quello è cartone ma tu non hai detto che quello è polisirene ragazzi io nei video lo dico sempre 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 perché io faccio cose dei presepi con materiale di riciclo quindi ragazzi una volta che abbiamo finito le nostre travi e avendole più o meno adattate vedete la forma del ponte sarà tipo così adattate a simili travi di legno incominciamo prima con la verniciatura perché non possiamo mettere già lo spago altrimenti dopo quando andremo a quando andremo a mettere lo spago se verniceremo il tutto dopo va a finire che coloriremo anche lo spago e verrà una cosa bruttissima quindi ragazzi guardate già l'effetto che sta avvenendo vi faccio vedere solo il primo guardate qui non so se rende dal video non so però da vicino ragazzi sembra già una piccola trave di legno consumata sui bordi ovviamente andremo a spennellarla tutta quanta una volta finite tutte vi farò vedere il montaggio della corda ragazzi una volta verniciati di marrone abbiamo aspettato una decina di minuti poi in base ai colori che usate voi che si siano asciugati un poco prendiamo un pennello asciutto con un poco di bianco andiamo leggermente a sfumare non tanto ragazzi dobbiamo dare quella giusta sfumatura per fare l'invecchiamento del legno allora ragazzi adesso è venuto il momento dello spago mentre stiamo aspettando che si asciughino le nostre travi di legno per la pavimentazione del ponte vi faccio vedere cosa dobbiamo fare se comprate questo tipo di spago che compro io come potete vedere è molto molto sfibrato quindi io vi consiglio di tagliare un pezzo in base sempre alla vostra misura che vi serve per il ponte una volta tagliato incomincieremo a fare questa cosa qui con un accendino antivento io faccio questo movimento qua guardate l'effetto che fa allora in poche parole cosa ho fatto vedete sono scomparsi tutti quei pelucchi ora vi faccio vedere la differenza dal prima questa parte e dopo vedete così diamo più quella sensazione di una corda quasi reale adesso prenderemo questa nostra diciamo finta corda il nostro spago e vi farò vedere come attaccarle sulle travi e incomincieremo a dare la forma del ponte allora ragazzi benvenuti nella terza parte del video del nostro ponte sospeso ragazzi rimaniamo continuiamo rimaniamo una decina di centimetri 10 15 centimetri in base a quello che dovete fare nel nostro spago finta corda come dico io il terzo passaggio è un pochettino di colla al di sotto della prima trave prendiamo il nostro spago e lo attacchiamo sotto così rimanendo 2 3 millimetri distante dalla trave poi con la parte più lunga facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sotto un pochettino di colla ma giusto un poco gli andiamo sopra ragazzi con la parte lunga e ritorniamo sotto vedete però andando direttamente sull'altro spezzone di spago dove abbiamo girato e facciamo il finto attacco del ponte vedete come se la trave stesse appoggiata sulla corda ho visto ho visto questo questo sistema farlo in un programma in tv tanti anni fa lo usavano per fare i ponti realmente tantissimi anni fa però calcolate che avevano dei chiodi a u inseriti sopra questo però giustamente per un ponte non deve mantenere nulla quindi se vogliamo fare una cosa economica e veloce è un bel sistema e ragazzi dobbiamo fare questo con tutte le nostre travi quindi ora ne metteremo un'altra e faremo lo stesso movimento ora vi faccio vedere sempre al di sotto prendiamo una distanza di un mezzo centimetro ecco qua più o meno mezzo centimetro anche se dal video sembrava un metro ecco qua una volta subito asciugato al di sotto passiamo di nuovo la corda così e incolliamo ragazzi vedete adesso faremo tutto questo con le travi e vi farò vedere nella quarta parte del video il fila la fine del ponte completo allora ragazzi una volta abbiamo finito con lo spago attorno alle travi questo è l'effetto che viene ora cosa ho fatto ho installato quattro asticelle di legno perché cosa dobbiamo fare questa è una fase che dovreste fare voi sul vostro presepe non so un attraversamento di montagna un attraversamento di cascata che il ponte di solito si usa molto sulle cascate quindi io vi consiglio di installare quattro finti tronchi perché saranno la base dove le corde dei nostri del nostro ponte dove andranno attaccate per fare il ponte sospeso ovviamente ora le attacco vi faccio vedere allora ragazzi questo è l'effetto che dovrebbe venire ragazzi lo faccio sempre a modo mio io cerco di aiutarvi a fare le cose economiche quindi le molte persone che mi giudicheranno come fanno sempre a me non mi interessa perché non me ne fregarò anzi ringrazio tutte le persone che che mi aiutano anche nei commenti quindi ragazzi continuiamo il nostro ponte vi faccio vedere perché lo abbiamo fissato così per farvi vedere il ponte sospeso cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere sempre lo lo spago rimanente e ora dovremmo fare gli scorrimano come le volete chiamare io li chiamo scorrimano che per me si chiamano scorrimano ora che cosa faremo fisseremo ovviamente questi paletti sono quei paletti che voi dovreste fissare come ho detto nel video precedente dagli ambi lati o della montagna della cascata dell'attraversamento del ponte che dovreste che dovrete fare ora io andrò a fissare prima su un lato e poi dopo man mano incomincieremo a fare l'unione tra lo scorrimano e le pedanine ora vi faccio vedere andiamo ragazzi tagliamo un pezzo di spago ovviamente sempre più lungo rispetto alla distanza che dovete fare perché poi dopo anche le corde degli scorrimano dovranno girare attorno al paletto così e dovrà essere lungo perché dovrà essere fissato a terra con un finto chiodino come si faceva all'epoca quindi ora lo vado a fissare e vi faccio vedere allora ragazzi una volta che abbiamo fissato le due corde come le chiamo io scorrimano dobbiamo tagliare tanti pezzettini in base perché se fate caso il ponte deve essere comunque un po una mezza conca non deve essere dritto dritto ragazzi mi raccomando dobbiamo dare più originalità quanto più reale può essere allora ragazzi continuiamo con il nostro video il ponte come abbiamo detto prima deve essere un po a mezza conca quindi tutti gli spezzoni di filo saranno differenti quindi prendiamo la misura quindi cominciamo a tagliare e man mano in mezzo alle travi ci aiutiamo con la colla a caldo ragazzi senza fare nudi prendiamo il pezzettino di corda e facciamo questo gesto qui uno e due poi lo tagliamo ecco qui con l'accendino a distanza facciamo sempre il movimento vedete ecco qua ora continuiamo per tutto il percorso delle travi e poi abbiamo quasi finito ecco ragazzi ecco ragazzi ecco il risultato finale spero che vi piaccia ragazzi ovviamente è tutto sempre in base economica economica e commerciale nemmeno con un euro di spago e del polistirene avanzato abbiamo fatto un piccolo ponte sospeso e vi divertirete voi ad installarlo da qualche parte da due parti di montagne sopra un fiume sopra un laghetto dove volete voi fai una ripresa pure davanti ragazzi guardate sembra reale lo attraversiamo insieme sembra reale ragazzi è venuto benissimo ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un cuoricino mi raccomando ragazzi guardate tutti i tutorial seguite anche il nostro canale youtube presepi di chris seguiteci su instagram che si chiama king e queen mi raccomando ragazzi se volete acquistare qualcosa da me come presepi oppure qualche cosa da collezione contattatemi su instagram in privato mi raccomando non mi contattate sul numero per domandare qualcosa di tutorial perché non vi rispondo mi raccomando ragazzi i tutorial saranno pubblicati tutti i giorni seguiteci su tic toc condividete tutti i video commentate lasciate un cuoricino ragazzi facciamolo diventare super virali perché il presepe è passione e amore come diciamo noi king e queen l'età è solamente un numero un bacione da king e queen spettacolo ciao a tutti ciao a tutti